Bisogna capire, almeno singolarmente, perché io in questo caso do un giudizio politico per cui è opinabile, chi si considera un pericolo per l'Italia. Io capisco le ragioni per cui la gente vota 5 stelle, ma ritengo che sia un pericolo per l'Italia dare la maggioranza assoluta a 5 stelle, perché ritengo che sia un conto dare la città di Roma con gli effetti che vediamo, non dico niente perché se uno le vede non ha bisogno che io dia un giudizio, anzi indebolirei quasi, per cui un conto è dagli la città di Roma, un conto è dagli l'Italia. Stop. Ritengo che Salvini sia una finta risposta, sia una demagogia allo Stato puro, non dissimile da 5 stelle. Berlusconi, che è un genio assoluto, e non lo dico ironicamente, si propone di essere l'argine contro questo populismo facendo alleanza con un populista che è il campione del populismo. Quando uno andrà a votare Forza Italia, si troverà nel collegio a votare contemporaneamente per chi? Per gli uomini di Salvini, per gli uomini della Lega, per gli uomini della Meloni. Cioè il mio voto teorico a Forza Italia va a Forza Italia e contemporaneamente consente l'elezione di questi signori nei collegi. Allora, lui è l'argine contro il populismo, queste sono cose che sono operazioni di magia che riescono solo ai Berlusconi.